Musica Un cordiale saluto, buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV al nostro consueto appuntamento del mattino con la rassegna stampa cioè un'occhiata ai giornali che tra poco daremo insieme all'aiuto del nostro touchscreen Allora, cominciamo dall'almanacco, il santo del giorno, anche se in realtà oggi la Chiesa Cattolica ricorda la natività della Beata Vergine Maria, dunque il compleanno della Madre di Gesù Questo è il santo di oggi, il sole è sorto alle 6.38 e tramonterà alle 19.33 Vediamo il tempo per la giornata di oggi, vedremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo, i venti saranno di brezza tesa da nord il mare da poco mosso a mosso Domani, mercoledì 9 settembre, cielo sereno poco nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo, i venti di brezza tesa da nord mare poco mosso, per giovedì ancora sole ma comunque al mattino sarà fresco sera lo stesso, insomma durante il giorno invece si starà bene anche se quindi giovedì avremo temperature in lieve aumento il cielo sarà sereno poco nuvoloso con i venti di brezza tesa o moderati da nord fine settimana, fine settimana stabile probabile un lieve peggioramento nella giornata del prossimo lunedì seguito da un ritorno a condizioni di tempo soleggiato allora abbiamo innanzitutto la notizia che le parrocchie e le parrocchie delle nostre diocesi si dicono pronte all'accoglienza dei profughi dopo l'appello lanciato da Papa Francesco nei giorni scorsi allora ne parla il resto del Carlino in primo piano con questo titolo parrocchie pronte all'accoglienza, aspettiamo il via del Vescovo in questo caso vedete Don Marco Di Giorgio che è responsabile della Caritas di Pesaro e sotto l'Arcivescovo Piero Coccia, la diocesi annuncia per oggi le indicazioni per ospitare i rifugiati dice Don Marco appunto la Caritas è al lavoro, se l'Arcivescovo accoglie l'appello noi ci siamo da Fano invece c'è chi ha già dato la disponibilità la pagina del resto del Carlino di Fano si occupa di un caso, un caso di una sede che prima era riservata agli artigiani poi è passata ai politici, in qualche modo ad un circolo che si occupa di politica di sinistra scoppia un'arci polemica al circolo di San Lazzaro, Santorelli porta la storia in consiglio comunale l'ex socio escluso dalla nuova gestione scoppia questo caso del circolo Arciartigiana che ha sede a San Lazzaro, a sollevarlo è l'ex socio Tony De Sena che si sente escluso dalla nuova gestione un ciclista è stato agganciato e trascinato per 20 metri da un camion è successo a Fossombrone, un brutto episodio di cronaca, è grave, è in prognosi riservata a un 29enne di Fano si chiama Balsamo Tagna, che non si è accorto durante la manovra in bicicletta del mezzo pesante ed è stato preso in contropiede e quindi l'incidente è successo in una rotatoria vicino ad un supermercato il 29enne non ha mai perso conoscenza, solo che ha riportato una serie di traumi piuttosto seri ad un femore nel bacino, i medici gli hanno riscontrato anche alcune parestesi agli arti inferiori la storia invece di questa biscia, biscia che ha di fatto tenuto chiuso un negozio per una decina di giorni è una biscia che si è nascosta dentro appunto il negozio Naturama a Pesaro sulla Statale alla fine questa bisciolina è stata presa, però insomma dieci giorni con il negozio chiuso il rettile, dice il titolare Ovani, mi ha mangiato uno dei tre uccelli pregiati, morti di paura invece gli altri due c'è tutto il racconto di come è andata la caccia grossa dentro questo negozio che si è conclusa soltanto ieri mattina dalla pagina di Pesaro invece è sparito il PC con i conti dell'Accademia, si parla ancora del testamento del maestro Mario Melani continua a suscitare perplessità e anche interrogativi il secondo testamento di Melani che ha rivoluzionato i contenuti del primo testamento il secondo atto giuridico redatto alla sola presenza del maestro e delle sorelle ma non dell'esecutore mentre Paolo Muratori, legato da oltre 30 anni di amicizia speciale con il maestro Melani dice non sono riuscito a salutare Mario per l'ultima volta a inizio agosto mi sono recato nella sua abitazione, ho atteso per un po' poi lì Canino mi hanno detto che il maestro stava riposando e non poteva ricevere visite qui credo fosse dunque la foto, la badante, si Nino Lezzava, poi il nome probabilmente non l'ho detto bene ma comunque questa donna qui è la badante del maestro deceduto Mario Melani andiamo adesso invece sul pagina di Pesaro Urbino del Corriere Adriatico a prensione per il noto oculista Urbinate che è stato vittima di un incidente Giannotti adesso si trova ricoverato al San Salvatore non è in pericolo di vita, grande apprensione per lui per questo medico Gabriele Giannotti di 57 anni dopo questo incidente avvenuto il sabato scorso nella prima serata in strada delle Regioni lungo questa strada la famigerata scrive il Corriere Montelabbattese Gabriele Giannotti è conosciuto oculista oltre che guardia medica stava rientrando nella sua città con la moglie al fianco e ha avuto appunto questo incidente abbiamo già detto ieri, abbiamo ricordato che Gabriele è il cugino il più noto ancora medico professionista oculista Bruno Giannotti il settimo assessore invece necessario siamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico Marcheggiani respinge le accuse di ingerenze pesaresi lanciate dalla minoranza le ingerenze sono quelle del Partito Democratico sotto sul Corriere Rincicotti Orciani contestata la Presidente di Commissione la maggioranza accusa Ansuini cerca un colpevole a tutti i costi un piano sicurezza per le spiagge la pagina di Fano sempre del Corriere è la proposta della società di salvamento a Gimarra e a Baia Metauro le situazioni più pericolose poi ZTL ZTL a Fano al Lido è un caso di sperequazione i 5 Stelle a sostegno dei residenti del Lido presentato una mozione sul costo dei permessi chiediamo al Sindaco e alla Giunta a prevedere tariffe differenti ed eque per le diverse zone Santa Marta adesso andiamo sul messaggero Santa Marta ancora uno slittamento in classe dal 5 ottobre dunque affollata assemblea ieri pomeriggio al campus oltre 300 presenti tra genitori insegnanti e del personale ATA per evitare i doppi turni all'alberghiero studenti spalmati tra 5 diverse sedi a Monbaroccio spunta un forcone davanti all'ingresso della sala del Consiglio Comunale il forcone lo vedete qua un gesto considerato intimidatorio dopo l'annuncio di fondersi con la città di Pesaro il Sindaco Angelo Vichi sporge denuncia Sposito che è legale appunto del Sindaco di Monbaroccio parla di un avvertimento ma assicura che non dice staremo zitti siamo ben oltre il confronto politico e sempre qui l'opposizione eravamo all'oscuro di tutto l'ultima parola l'aspetterà però ai residenti con il referendum in effetti questa è una cosa un po' così le solite cose alla politica un po' quelle che fanno fanno sorridere per non dire peggio perché a un certo punto uno apre il giornale e si ritrova questa questa uscita il Sindaco che vuole fondersi con un'altra città senza che nessuno sappia nulla senza e dire che poi dopo qualche ora il Sindaco di Pesaro risponde sì sì siamo pronti con conti addirittura la mano già tutti i conti hanno fatto due chissà da quanto tempo è che ne parlano all'oscuro di tutto e di tutti ma che roba è? ma che modo è? cioè non lo so boh uno pensa di fondo in una città un paese senza niente a nessuno lo diciamo sui giornali e i cittadini lo leggono sul giornale che problema c'è? boh buono di far politica davvero da oh non lo so medioevo forse allora andiamo a vedere la cronaca invece da Mercatino Conca tragedia Mercatino Conca sistema i richiami cacciatori un cacciatore cade dall'albero e muore si tratta di un imprenditore edile Walter Bonifazi San Marinese di 55 anni che l'altro giorno si stava arrampicando su una pianta in un terreno di sua proprietà per predisporre una postazione di caccia alle colombacce purtroppo è caduto ed è morto poi l'ultima pagina invece che andiamo a vedere della nostra segna stampa è quella del messaggero la pagina di Fano anche qui sulla ZTL ZTL sapete è la zona traffico limitato a Lido il comune di Fano assicura per i permessi la tariffa è condivisa l'attuale importo ha ricevuto parecchie contestazioni dai residenti e dalle opposizioni parliamo di 68 euro di autorizzazione per la prima macchina questa è la tariffa di cui si parla praticamente la stessa cifra che pagano i residenti del centro storico però per tutto l'anno mentre quelli del Lido ce l'hanno solo per il periodo estivo quindi dicono come noi 68 anni 68 euro per qualche mese e loro 68 euro per gli altri quelli del centro 68 euro per tutto l'anno e si sentono allora l'assessore Marcheggiani dice troverò una soluzione che metta tutti d'accordo e questa è la notizia in evidenza mentre quanto costa sposarsi in municipio a Fano nella sala della Concordia costa da 80 a 120 euro la tariffa varia in base al giorno se è festivo ovviamente è più costoso del feriale prezzo fisso 500 euro più IVA se invece si intende pronunciare il fatidico sì abbracciati dalla suggestiva cornice dell'ex chiesa San Francesco quella che non ha il tetto tanto per capirci oggi nella chiesa di San Pio X invece i funerali del professor Aldo Deli appuntamento per chi vuole dare l'ultimo saluto a questo illustre cittadino oggi pomeriggio alle ore 15 mi fermo qui è tutto per la rassegna stampa grazie per averci seguito buona giornata e a domani grazie per averci seguito